Ciao, io sono Beppe, io sono Aldo, siamo qui per lavoro, per business, quindi business, quindi importanti, siamo qui a tenuta la balonessa, posto incantevole, eccezionale, spettacolare, materie prime di primo livello, Aldo che mi dici? Abbiamo la fortuna di lavorare in un paradiso, dove se mi permetti il valore aggiunto è Lara. Lara, persona eccezionale, luogo eccezionale, luogo di tranquillità, spensieratessa e sogno, ecco questa è una parola molto bella, sogno, si sta tranquilli anche dopo il lavoro riusciamo a rilassarci, grazie tenuta la balonessa.